Grazie a tutti. Per generative adversarial network, è un sistema composto da due algoritmi, un algoritmo generativo che genera le immagini e un discriminatore, ossia l'algoritmo che tenta di selezionare quali immagini assomigliano a un'opera umana da quelle che invece ritiene false. Nel caso di questo pseudoritratto a sinistra, il generatore, tra l'altro volevo dire che questo ritratto è stato venduto all'asta da Cristi per 432.500 dollari. Il generatore è stato nutrito da una banca dati di circa 15.000 ritratti dipinti tra il XIV e il XX secolo e fra le varie immagini ha prodotto quella di sinistra, che ha ingannato la rete discriminatrice producendo lui, il fantomatico personaggio Edmond Bellamy. Adesso volevo fare un esperimento contrario. Se vi facessi vedere questi quattro collagio, un po' a metà tra espressionismo e dada, mi sapreste dire quale di questi è opera di una mente umana? Sono sicuro che in questo caso avreste più difficoltà. Questi quattro ritratti, questa sequenza è stata prodotta da un'applicazione che mi sono inventato io, che è un'applicazione per insegnare la storia dell'arte ai bambini in maniera divertente, in maniera creativa. Vi faccio una premessa. Io nasco come pittore. Purtroppo il termine che oggi mi definisce di più è il termine artista visivo, che mi irrita moltissimo e che non capisco, non so ancora cosa significhi, però credo che un po' implichi l'utilizzo di varie tecniche e di varie media. Ed io in questo senso devo dire che ho iniziato dipingendo tradizionalmente, olio su tela, e poi dopo tanti anni ho cominciato ad interessarmi anche di tecniche digitali. E nel tempo questi due aspetti hanno convissuto sempre di più nel mio lavoro, l'aspetto analogico e l'aspetto digitale. Mi sono laureato in filosofia nei primi anni del 2000 con una tesi sull'intelligenza artificiale. Era una tesi su un autore americano che si chiama Hubert Dreyfus che scrisse nel 1972 un libro molto discusso ancora oggi che si chiama What Computers Can't Do, Cosa i computer non possono fare, in cui fondamentalmente cercava di confutare l'idea per cui i computer potessero essere dotati di un'autentica coscienza. Diciamo che da quando mi sono laureato già l'intelligenza artificiale ha fatto dei progressi incredibili. Basti pensare, non so, che un computer oggi, cosa che prima sembrava incredibile, può ripetutamente umiliare a scacchi il campione del mondo umano, oppure ancora indicarci il percorso più breve per arrivare a una destinazione, oppure individuare un tumore con molta più sicurezza di un dottore umano, o ancora, abbiamo visto ultimamente, guidare autonomamente un veicolo mentre noi stiamo comodamente seduti nel sedile posteriore a leggere un libro. Nonostante tutta questa serie di progressi incredibili e anche nonostante una serie di previsioni completamente sbagliate di chi pensava che le macchine non potessero mai avere una coscienza, devo dire che ancora oggi sento idealmente di appartenere a quella schiera di pensatori, diciamo, cosiddetti antiriduzionisti, ossia che pensavano fondamentalmente che la coscienza fosse irriduscibile alle maglie del sapere scientifico. Certo, la macchina è perfetta ed esegue dei singoli calcoli con una capacità e una perfezione terrificante, una velocità di calcolo terrificante. Ma è proprio questo il mio punto, cioè la macchina è perfetta, mentre noi, umani, siamo meravigliosamente imperfetti. Un robot a suo modo intelligentissimo e perfetto sarebbe incapace di capire la bellezza di un quadro, di compiere quel salto quasi metafisico che facciamo noi quando abbiamo un'intuizione, un'idea, quando passiamo dall'entropia, dal disordine all'ordine, da nulla a tutto, dal normale al sublime. È il salto che facciamo noi, umani, in maniera appunto quasi metafisica, quando bypassando la nostra razionalità muoviamo la nostra mano, mossi dall'inconscio, mossi dall'intuito, e la nostra mano, il nostro pennello, si muove sulla tela e, se va bene, produce misteriosamente bellezza. È curioso constatare come tre elementi, come l'imperfezione, il caso e l'errore, che sono anche tre elementi fondamentali per la nostra stessa evoluzione, ed elementi che ci rendono così straordinariamente unici e complessi, siano anche degli elementi che io ritengo fondamentali nella creatività e nel processo artistico. Nel mio non ne parliamo. Vi volevo far vedere un piccolo estratto di quella che io chiamo metamorfosi pittoriche. Sono delle performance, questa è stata realizzata durante l'ultimo lockdown, in cui dipingo liberamente, non so dove vado a finire, improvviso, e le forme cambiano continuamente da una cosa all'altra. E questa tecnica la uso perché mi aiuta a raggiungere dei risultati che sorprendono me stesso. Non so che cosa verrà fuori. E alla fine però viene qualcosa di più forte, di più puro, di più necessario rispetto al tradizionale percorso illustrativo Eccolo qua. Ho aperto questa lunga parentesi perché ho spesso pensato anche proprio a come questa tesi che ho fatto sull'intelligenza artificiale tanti anni fa avesse un senso ulteriore anche rispetto a questa mia piccola, preziosissima per me, invenzione dell'app in cui in qualche modo confluiscono la mia filosofia creativa, l'utilizzo di nuove tecnologie e anche questa mia vera e propria ossessione per il caso come metodologia creativa. Anche il percorso che mi ha portato alla realizzazione dell'app in realtà è del tutto casuale. Mi ricordo che la prima versione che veniva utilizzata fra l'altro e forse ancora viene utilizzata nella sala d'aspetto dell'ospedale Meier, nell'ospedale pediatrico Meier qui a Firenze, era una lavagna magnetica su cui i bambini potevano manipolare e combinare dei pezzi, dei pezzi che erano estratti dai loro disegni oppure da oggetti di uso comune o da forme che gli avevo disegnato e fornito io. E mi ricordo ancora la prima volta che li vidi creare dei piccoli capolavori senza nessun bisogno di spiegazioni tecniche, assemblando veramente dei collage e delle opere incredibili. Guardate, me ne portate tre, ma ce ne sarebbe un'infinità. Cose che starebbero bene in un museo, secondo me. E ciò che volevo realizzare in seguito però era un'app che aiutasse i bambini non solo a creare, ma anche ad imparare la storia dell'arte in maniera divertente. Proprio perché forse troppe volte io stesso mi ero annoiato anche durante il liceo, durante queste lezioni di storia dell'arte. pur amando moltissimo l'arte. Per cui partivo dall'idea semplice ma molto potente di manipolare un campionario di pezzi estratti dai grandi capolavori dell'arte. E il fatto che questi pezzi fossero elementi discreti per utilizzare un termine rubato dalla fisica, ossia elementi singoli, elementi separati l'uno dall'altro, elementi atomici, si è rivolato un aspetto molto molto importante. se ad esempio pensiamo di invece di assemblare questi pezzi di assemblare le parole anche se scegliessimo parole di per sé meravigliose alla fine non verrebbe più che un divertente non-sense ma mi resi conto che invece con i pezzi la storia era diversa. La possibilità di realizzare questa app me la permetteva anche la nascita di questa nuova tecnologia che era la tecnologia touch. Dopo che cominciai a selezionare questi pezzi questi erano circa 200 pezzi cosa che mi fa anche impressione perché se ripensiamo ai 15.000 pezzi con cui è stato nutrito l'algoritmo di prima devo dire che non vorrei mettermi in competizione ma ne esco abbastanza vincitore questi 200 pezzi estrapolati da grandi capolavori dal 200 al 900 tutti di pubblico dominio messi insieme creavano dei veri e propri piccoli capolavori mi ricordo mentre lavoravo la messa a punto di quest'app mio figlio Leo che all'epoca aveva poco più di tre anni è stato una specie di piccolo direttore artistico importantissimo per me perché vedevo veramente la potenzialità di questa cosa nelle mani di un bambino e vi ho portato quattro collage realizzati da Leo a poco più di tre anni però mancava ancora qualcosa vi ricordate prima quando vi parlavo di cosa ci distingue dalle macchine tra le altre cose l'imperfezione e il caso dunque l'idea di introdurre il caso nella mia app sotto forma di un algoritmo un algoritmo che chiamai appunto l'algoritmo random che semplicemente consisteva era legato a un gesto fisico che era quello dello scuotimento del device per cui uno componeva il proprio quadro e il proprio collage e poi quando scuoteva il tablet l'algoritmo cambiava liberamente i pezzi con altri pezzi continuamente ogni volta che si scuoteva l'iPad e questa cosa ovviamente portava alla nascita di pezzi completamente inaspettati e vi faccio vedere la cosa importante è che però lo schema iniziale dell'opera che si era creata veniva rispettato vi faccio vedere una piccola sequenza di scuotimento della mia app queste sono tutte cose in mezzo alla sequenza dello scuotimento quindi nemmeno create da me vi potete immaginare che praticamente ho passato mesi a scuotere il device sotto gli occhi atterriti della mia famiglia ecco guardate che robe venivano fuori insomma avrete capito che per me il caso è sicuramente una cosa l'imperfezione l'errore è una cosa alla base diciamo della creatività è vero poi ogni tanto la nostra vita sembra essere in balia del caos del caso pensiamo anche alla pandemia che stiamo attraversando ed è per questo che proviamo anche ad applicare alla realtà dei modelli di perfezione che appunto per rimanere nel tema di oggi ci rassicurano pensiamo ai modelli di bellezza ai modelli di successo ai modelli di perfezione imposti dalla nostra società però se ci pensate bene quest'idea di perfezione è è un'idea statica è un'idea vuota è un'idea fredda la perfezione per sua definizione non ha bisogno di cambiamento l'imperfezione e il caso sono alla base della nostra stessa evoluzione se fossimo stati perfetti non avremmo nemmeno avuto bisogno di evolverci no? e quando da piccolo mi trovai provocato da mio padre a pensare a quest'idea di un dio magico e perfetto dissi questa frase che oggi mi sembra emblematica gli dissi papà se io fossi dio non vorrei essere magico vorrei essere normale cioè avevo già capito in qualche modo che questa cosa della perfezione non mi tornava era qualcosa di noioso che non portava a niente di buono insomma l'imperfezione secondo me è ciò che ci salva dall'omologazione ciò che ci rende straordinariamente unici e complessi è vero anche che il caso il disordine da soli senza controllo non sarebbero altro che entropia e arbitrio ma è proprio qui che noi umani ci possiamo distinguere dalle macchine perché quando ci va bene possiamo prendere questo disordine e dargli una forma e quando ci va bene gli possiamo dare una giusta forma una bella forma e allora lì scopriamo che succedono cose meravigliose e sorprendenti il caso è una vera e propria forza vitale è una vera e propria straordinaria forza creativa quando si avvicinava a questo talk mi sono trovato a fantasticare sul fatto che forse i miei nipoti o i figli dei miei nipoti un giorno potranno sentire questo mio talk al TEDx e magari saranno circondati da utomi intelligentissimi e raffinatissimi con i quali magari si prenderanno gioco del vecchio nonno che invece pensava non credeva nell'ipotesi dell'intelligenza artificiale forte ma io sono profondamente convinto che c'è una cosa che le macchine non possono ancora autenticamente possedere ma solo simulare ed è proprio questo il nostro essere meravigliosamente imperfetti grazie